Vale 176 milioni di euro l'anno l'indotto economico del turismo nella marca. Una vera e propria boccata d'ossigeno in questo momento di crisi e stagnazione economica grazie ad un sempre crescente numero di arrivi dall'estero. Cina soprattutto, attratta non solo dal mito veneto di Marco Polo, dal prosecco che sta modificando i gusti orientali, ma anche dall'investimento nelle nostre aziende. Infatti dopo anni di recessione tornano i manager e non solo con gli occhi a mandorla. Sono in crescita le arrivi e le presenze anche, e questo è un dato molto importante, delle presenze italiane, oltre che straniere. E questo, soprattutto in alcune aree, quali il Vittoriese, quali la zona di Montebelluna, è legata al turismo del business, quindi sta riprendendo il turismo legato all'attività del nostro territorio e questo è un segnale di ripresa molto importante. La parte del leone la fa comunque il territorio, le sue bellezze, i prodotti tipici, con particolare attenzione ad alcune iniziative culturali. Ci sono comuni invece come Conegliano che stanno lavorando molto bene, ne sono in crescita per tutta una serie di attività culturali su cui stanno investendo e su cui stanno spingendo anche le aziende del territorio. Secondo lei quanto il mancato Goldin penalizzerà il turismo della marca? Guardi, chiaramente il mancato Goldin è un'occasione persa. È un'occasione persa ma mi auguro, siccome i dati di Treviso Capoluogo non sono così buoni, va un po' in controtendenza rispetto al resto del territorio della provincia di Treviso, mi auguro che l'amministrazione guardi oltre. Una tiratina d'orecchia all'assessore Franchin, dunque nella speranza che in alternativa a Goldin ci siano altri nomi già annunciati come Sgarbi o D'Averio, come spera chi fa promozione di Treviso e della marca. Cominciare ad ospitare il vero turista, colui che ama la nostra cultura, ama le nostre tradizioni, colui che compra delle cose, compra i nostri prodotti, si riporta a casa e soprattutto vive il nostro territorio che, grazie a Dio, non è delocabilizzabile. Secondo lei D'Averio e Sgarbi, chi dei due è il migliore o chi dei due è papabile per Treviso? C'è una monetina?